Concentrati, pronti ed affamati. Così dovrebbero essere i lupi a quattro giorni dall'esordio e ai play-off la speranza e che questo lungo periodo di attesa non abbia fatto altro che accrescere il desiderio di tornare a giocare e godere dell'onda d'urto, della passione, della città e della provincia. I presupposti ci sono tutti, compreso un senso di rivalza che dovrebbe essere alla base del percorso. Tutti i calciatori hanno qualcosa da dimostrare, chi scenderà in campo, chi sarà chiamato a subentrare e chi nella stagione regolare non ha dato il proprio supporto o non è stato coinvolto nel progetto tecnico. Nei play-off si azzera tutto, fin anche le gerarchie che fino a questo momento sembravano intoccabili. Difficile ad oggi però immaginare grandi stravolgimenti, quanto meno dall'inizio. Pazienza non modificherà l'assetto del suo 3-5-2, con qualche novità che potrebbe esserci magari in avanti, dove Sgarbi e Gori si contendono un posto accanto all'intoccabile Chicco Patierno. La linea 3 invece dovrebbe essere formata dai soliti Cancellotti, Cionec e Frascatore. A centrocampo, Ricciardi esterno a destra, Liotti a sinistra, De Cristofaro e D'Ausilio interni, con Armellino in cabina di regia. Ballottaggio possibile proprio tra D'Ausilio e Rocca, con quest'ultimo non brillantissimo sul finale di stagione. Come detto in avanti, le chance non mancano. La coppia Gori-Patierno ha dato garanzie, ma l'Avellino ha dimostrato più volte di non poter prescindere dalla verb di Lorenzo Sgarbi. Dal primo minuto o a partita in corso, nessuno deve sentirsi escluso dalla corsa. Ogni scintilla, ogni azione ed ogni intuizione possono essere decisivi in un play-off duro, interessante ed apertissimo.